vergogna 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 siete sicuri di essere salibrati questo natale non è che avete fatto un po degli stronzi perché sennò io li vengo a parlare e vi strappo gli occhi con la lingua mi ha detto che non si mangia quel canale una mattarellata in testa la ristoranza è buona non ditemi che sono l'unico che sta ancora facendo tutti i regali tutti i regali poi per mia madre il regalo per la mamma penso sia una delle cose più complicate perché ci hanno tutto vi prego datemi un consiglio in direct cosa posso regalarle? aiuto ma quando succede una cosa del genere cosa dite? qual è la parola adatta? un'altra cosa che fa un botto a ridere è che c'è questa foto di Charlie ma c'è caduta sopra non so cosa sia un pelo sembra che abbia il monociglio un pelo di calzini stavolissimo all I want for Christmas is you you baby e anche quest'anno ho peso 10 kg perché è Natale e a Natale a Natale mangio come un ognuno lo sai che poi ingrasserai potolini sulla pancia c'ho una chiappetta un po' più larga per non parlare poi poi dei fianchetti perché sembro un anfora all I want for Christmas is you ragazzi è uscito un nuovo video qui sul mio profilo Instagram andatelo ad ascoltare perché è la canzone che vi dedico per Natale fatemi sapere se vi piace soprattutto taggate una persona alla quale la dedicate o che sicuramente la canterà domani grazie buon Natale andate sul profilo grazie 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 ragazzi volevo invitarvi a vedere questo video di Jacopo Melio e di Martino dell'Ombra basta che scorriate verso l'alto perché penso sia uno dei video più belli che abbiano mai fatto fatela vedere perché è stupendo e condividetelo buon Natale vabbè buon ragazzo vabbò vabbè vabbè pretiletto tanti auguri a te tanti auguri a te vabbè 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 valerio tanti auguri a te Allora ragazzi sono Piace Vita Vecchia, insieme ai miei amici soprattutto, seguitela perché merita, è la gallina che gira il mondo, che cazzo volete di più?